Sta per concludersi il progetto pluriennale Life Beware che nei comuni di Sant'Orso e Marano Vicentino ha visto la realizzazione di numerose opere in grado di coniugare cambiamenti climatici, rischi di alluvione e sicurezza idraulica. Sabato 4 giugno presso Villa Rossi a Sant'Orso, giornata conclusiva del progetto rivolta alla collettività per illustrare i risultati raggiunti. L'evento sarà preceduto martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno da due giornate di formazione rivolte ai tecnici e ai professionisti Veneto Agricoltura tra i partner del progetto. Accompagnato dallo slogan Beware, sii consapevole, si sta concludendo il progetto europeo del valore di oltre 2 milioni di euro che ha interessato una parte del territorio vicentino, i comuni di Sant'Orso e Marano nello specifico. Il progetto che ha visto tra i protagonisti Veneto Agricoltura si è concretizzato attraverso la realizzazione di alcune importanti opere quali vaccini idrici in campo agricolo, giardini pluviali, pozzi drenanti, cisterne di raccolta dell'acqua piovana, canali di gronda il cui scopo è quello di ottimizzare la gestione delle acque meteoriche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici che sempre più spesso significano anche abbondanti precipitazioni in breve tempo con conseguente rischio di alluvioni. In pratica le opere realizzate puntano a facilitare l'infiltrazione e lo stoccaggio dell'acqua piovana nelle aree rurali e urbane del territorio. Grazie 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 Grazie